Due parametri su tre superati. Resiste solo quello relativo e ricoverato in area medica, ma è al limite. La regione Abruzzo si prepara a fronteggiare anche questa situazione, ma non è escluso che nel giro di un paio di settimane si possa tornare in zona gialla. L'assessore regionale alla sanità Nicoletta Veri fa il punto, parlando anche di un sistema sanitario che complessivamente sta reggendo e introduce una importante novità. Dopo il 4 gennaio nei nostri presidi ospedalieri potrà essere usato anche l'antivirale. Organizzeremo attraverso questo primo momento anche la possibilità di poter somministrare questo farmaco anche attraverso le USCA. Faremo degli incontri per stabilire le modalità. È importante l'uso degli antivirali perché permetterà non solo di non ricoverare i pazienti, ma anche di prevenire quella che può essere l'evoluzione complessa della malattia. Sul rischio di tornare invece quanto prima in zona gialla, l'assessore Nicoletta Veri invita a una maggiore cautela. Noi stiamo seguendo tutti gli indirizzi, tutta una programmazione a livello regionale per rimodulare a seconda dell'insorgenza dei casi. Senz'altro questo è un virus che ha una grande trasmissibilità, viene definito uno dei virus che ha una velocità di trasmissione più alto a livello della storia. Basti dire che un solo positivo può contagiare altre sei persone, quindi è importante questo. Il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva è occupato prevalentemente dalle persone fragili e dalle persone non vaccinate. Un'ultima battuta, assessore, provvidenziale l'ordinanza di Marsiglio per quanto riguarda lo slittamento e le aperture delle scuole. Il 7 inizieranno gli screening da parte delle ASL. Tutto pronto? Sì, allora volutamente proprio per gestire meglio a livello preventivo questa pandemia che sta prendendo in questo momento, in modo particolare, proprio l'età evolutiva, l'età pediatrica. Abbiamo deciso di mettere in atto questo slittamento della riapertura delle scuole. Pur essendo la Regione molto attenta a una didattica in presenza, abbiamo preferito proprio fare questo. E nei giorni antecedenti alla riapertura, il 10 gennaio, attraverso l'ANCI, attraverso i militari, metteremo in atto uno screening su tutta la popolazione scolastica per evitare il contagio sempre più frequente.